Ancora una nota negativa in terra di lavoro, un'altra brutta statistica che riguarda la nostra città. A Caserta c'è la più alta percentuale di ragazzi tra i 14 e i 17 anni che non frequentano regolarmente, come la maggior parte dei loro coetanei, la scuola dell'obbligo. Il 27% della popolazione scolastica entra nella sfera dei non-studenti, che crescono sempre più di anno in anno. Giovani che non terminano gli studi in una città, una regione, una terra, dove è sempre meno semplice trovare un impiego lavorativo. Statistica è negativa in tutta la penisola, con la situazione che si aggrava nel meridione, dove i numeri raddoppiano, in particolare in Campania, dove si ha il picco. Secondo i dati risalenti al 2009, elaborati dall'assessorato dell'istruzione della regione Campania, erano circa 50.000, addirittura 15.000 tra i 6 e 15 anni, i ragazzi ritenuti dispersi, ovvero non iscritti alla scuola dell'obbligo. Le cause non sono poi così difficili da individuare. Edifici e spazi ludico-ricreativi, che dovrebbero ospitare gli studenti. Infine, non per minore importanza, va considerata l'ombra della camorra, che non aiuta la formazione giovanile nell'area territoriale casertana. Per superare il fenomeno dell'evasione scolastica, stanno nascendo alcune iniziative, come Nuove Frontiere, progetto neonato con l'intenzione di diminuire sempre più la fuga dei banchi di scuola, cercando di individuare i motivi di questo malessere. Per far ciò, sarà sicuramente necessario rafforzare il rapporto relazionale tra i giovani in questione e il loro gruppo familiare, spesso disattento e motivo di tale dispersione.